Buongiorno a tutti ragazzi, buonasera a tutti perché sto facendo questo video di sera Vi vorrei fare un annuncio importante, cioè scusatevi non è tutto l'assenza per tutto il tempo Perché sono stato impegnato con la scuola e l'avevo pure detto che in un video che se ci sarà qualche periodo che non farò più video Invece no, vi voglio spiegare perché ho abbandonato YouTube Allora, più che altro se vi è apparso una live di 8 secondi a caso che diceva di Tokidoki Sappiate che non ero io, fidatevi di me, non ero io perché io prima di tutto Cioè non faccio live di Tokidoki a caso, cioè di 8 secondi con lo schermo nero Capito? Quindi io non potrei mai fare questa cosa del genere A parte che sto pure su The Forest però dovrei cambiare tipo punto di spawn Vabbè non lamentiamoci con tutta la roba che abbiamo Dai la roba è variata Cioè non so nemmeno variare, che merda Vabbè io inizierei già a fare qualcosa Comunque innanzitutto ve lo volevo dire Ragazzi, cioè tranquilli ragazzi, non chiuderò il canale Ma io ve l'avevo detto che proverò pur che altro a portarvi più video possibili Perché poi sapete com'è, essere impegnati con la scuola Vai a casa, ti rilassi pochissimo, ti metti a studiare Stai a studiare 8 giorni, non c'è il tempo per fare live Cioè non funziona così purtroppo regà Io sono pure impegnato, non posso nemmeno, cioè gioco pure pochissime volte Cioè dipende se ho pochi compiti Riesco a giocare senza problemi Se no, eh, me do attaccare Tranquilli ragazzi, cercherò di portarvi più video possibili Più che altro questo non è un video un po' tranquillo Un video in cui faccio gameplay Però è un video più che altro di annuncio importante E volevo ringraziare quelli che mi seguono ancora Che la maggior parte della gente che si è iscritta al mio canale Non si sono iscritti, ricordo che i miei video non si sono iscritti al mio canale Quindi vi consiglio di farlo ora Attivate la campanella Così almeno cerchiamo di arrivare ai 150 iscritti Che faremo, se volete, porterò un gioco a random E bene ragazzi, volevo annunciare che questo video finisce qui Lo so, è un video un po' breve Però è stato un annuncio più che altro importante Bene Grazie per aver visto il video Lasciate un like, attivate la panina e ci vediamo in un altro video E ciao a tutti Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video